Buongiorno e buon venerdì santo. Riguardo alla comunicazione che ho fatto per la richiesta di tamponi per il territorio di Chiaravalle Centrale, ancora ad oggi non ho avuto nessuna risposta, considerando che era utile per tutti avere un tavolo di concertazione tra la presidenza della giunta regionale, l'unità di crisi e i comuni che sono focolaio, cosa che si è ritenuta non utile da parte della regione poiché non ha attivato nessun tipo di iniziativa. In tal senso noto anche che proprio ieri con ordinanza numero 27 la Regione Calabria adotta ulteriori misure per quanto riguarda un comune del Cosentino, la città di San Lucido, dove rafforza e amplia lo screening sanitario. Reputa che molto probabilmente la situazione che c'è su Chiaravalle di 19 positivi non è così allarmante secondo la Regione Calabria. Abbiamo motivo di credergli se hanno fatto questa valutazione. Lo screening, sottolineiamo, è fare il tampone. Continuare ancora oggi a Chiaravalle qualcuno di pensare che lo screening possa essere una prova diversa, continuo a dire che lo screening che ho chiesto io, lo screening che prevede la Regione, è fare il tampone poiché tutto il resto ad oggi è inutile perché non serve fare la prova sierologica per una diagnosi perché qualunque altro tipo di prova che non è quella del tampone non è utile per la diagnosi. Per quanto riguarda la situazione legata alla Domus Aurea, noi ad oggi abbiamo avuto 40 tamponi effettuati, di cui 19 per i dipendenti, 18 per i contatti sociali e 2 per altri soggetti che presentavano sintomatologia. Da questi 40 tamponi noi abbiamo i due soggetti al di fuori della Domus che sono risultati negativi. Per quanto riguarda i contatti, 18 tamponi effettuati, 13 negativi e 5 positivi. Di questi 5 positivi è bene sottolineare che sono in casa già da giorno 26 del mese di marzo. Quindi hanno fatto già una quarantena precauzionale prima. Ora un'ulteriore quarantena a tampone effettuato. Quindi sono chiusi dentro, non hanno avuto contatti con nessuno. Per quanto riguarda i dipendenti, i tamponi totali sono 19, di cui 14 positivi e al momento 6 negativi. Dei 14 positivi, dobbiamo ricordare che ci sono 3 dipendenti che sono presso la struttura di Catanzaro Lido, altri 2 dipendenti che sono nella propria abitazione e questi sono i 5 dipendenti iniziali che hanno fatto il tampone subito quella sera del 25. E che, se Dio vuole, hanno già fatto il tampone, il secondo tampone, che se abbiamo da qui a qualche ora la risposta della negatività, possiamo dire di avere i primi guariti da coronavirus a Chiaravalle. Gli altri 9 tamponi sono stati fatti invece tutti in questi ultimi giorni. Di questi 9, 3 sono presso la struttura Mater Domini di Catanzaro, 3 signore, e gli altri invece sono nei propri domicili. Nessuno presenta sintomatologia, ringraziando Dio i sei che sono a casa stanno bene, sono seguiti dal Dipartimento di Prevenzione. Ecco, questa è la situazione ad oggi. Io non posso non ricordare anche l'evento triste che è quello legato ai morti, ai nonnini morti. Al momento sono 20 e mi unisco al dolore delle famiglie per la dipartita dei loro cari. In questo momento particolare, nella settimana santa della Pasqua, ancora di più forse questo dolore si vive. e siamo tutti vicini a loro, tutta la comunità di Chiaravalle, ai parenti, ai familiari. Vi lascio quindi con un augurio per questa Santa Pasqua, con la speranza che in questo momento di grande difficoltà della Covid-19 si possa lo stesso trovare la forza di poter andare avanti e di trovare nella resurrezione del nostro Signore la speranza che ce la possiamo fare. Grazie.